io sono helpman oh ehi ragazzi fin qua fin qua perfetto forza forza scaricate da questa parte ribaltiamo prendo io lo prendo lo prendo forza puoi poggiarlo da questa parte ottimo adesso ci penso io finalmente il mio turno aggiustiamo aggiustiamo per bene oh questo sì che è un ottimo lavoro adesso sì che la strada è pronta come fare senza questi perfetti per la nostra strada oh bravissimo ehi guarda arrivano le prime macchine oh wow avete fatto una strada nuova già sembra molto comoda eh sì se volete potete provarla oh wow ma questa strada è veramente liscia wow già guarda che comodità non c'è una grinza in questa strada ehi ma anche a noi servirebbe una strada così non avete altri pezzi rimasti oh ma qui c'è la vostra stazione purtroppo noi non abbiamo più pezzi oh no già che sfortuna possiamo chiamare helpman lui avrà qualcosa in mente di sicuro una nuova chiamata helpman in ascolto helpman pronto helpman ci servono dei pezzi nuovi per la strada per arrivare fino alla stazione di poli ci puoi aiutare? certo che vi posso aiutare arrivo subito con questa plasterina potremmo costruire una strada però ora che ci penso potrebbe essere troppo scivolosa non va bene queste sono delle rotaie ma non credo che andranno bene per le nostre amiche macchine questa qui è proprio la strada che ci serve possiamo andare ad aiutare i nostri amici ehi amici eccomi è arrivato oh helpman sei arrivato ciao helpman ciao helpman hai portato con te qualcosa per costruire la strada? ancora meglio ho portato un'intera strada oh wow sembra incredibile e sembra molto liscio e allora mettiamoci subito al lavoro questo lo mettiamo da questa parte e questo per di qui creiamo una bella curva e ancora questo pezzo per di qua e questo che si collega alla nostra base ed ecco fatto eh ma ci servono anche dei lampioni già i lampioni al buio non si vedrà niente altrimenti mi ero quasi dimenticato e ci serviranno anche delle barriere ecco qui le nostre barriere questi questi sono i nostri tocchi finali allora ragazzi vi piace la nostra nuova strada? sì è splendida oh la voglio collaudare per primo ora è il mio turno finalmente oh helpman grazie mille ci hai aiutato tantissimo figurati rullo non c'è di che e tu vuoi vedere che aiuterò la prossima volta? allora ricordati di iscriverti al nostro canale mettere mi piace e noi ci vediamo presto ciao